Secondo appuntamento con i seminari formativi promossi dalla provincia regionale di Caltanissetta per il proprio personale, quello che si è svolto nell'Aula Magna del Liceo Classico Ruggero VII, formazione che rientra nell'ambito del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità adottato lo scorso luglio dal commissario Raffaele Sirico, in attuazione della legge 190-2012. Ad approfondire i risvolti penali dei reati contro la pubblica amministrazione è stato Giovan Battista Tona, consigliere di Corte d'Appello. Il relatore è una persona magistrato notissimo, il professor Giovan Battista Tona, che si intratterrà i nostri collaboratori tutta la mattinata e c'è un uditorio abbastanza numeroso, parliamo di circa 170 persone, lavoratori della provincia, che seguiranno questo seminario, che fino a questo momento è stato di estremo interesse, perché il dottor Tona ha questa capacità, come dire, esplicativa di illustrare dei concetti anche complessi in modo molto chiaro, molto semplice, molto lineare. Quindi credo che sicuramente i nostri dipendenti avranno dei benefici. Parleremo ora anche di qualche reato contro la pubblica amministrazione che può essere commesso da soggetto che non è pubblico ufficiale. I reati contro la pubblica amministrazione si chiamano così non perché sono commessi dai pubblici amministratori, ma perché hanno come persona offesa la pubblica amministrazione. E siccome il pubblico ufficiale quando commette un reato poi lì si apre la questione se il reato che commette è connesso alle funzioni che esercita o meno, se le funzioni che esercita sono necessarie e indispensabili perché si possa dire integrato il reato o no, e soprattutto in che termini le sfrutta, questa cosa va tenuta presente. Lei non sa chi sono io, la famosa frase, lei non sa chi sono io, e viene utilizzata da chi è qualcuno. E viene utilizzata da un qualcuno che però nel momento in cui ricorda al suo interlocutore chi è, sta esercitando la sua qualità non per attività inerenti a questa sua qualità. Mi spiego meglio. Se io voglio un posto in prima fila a teatro, e dico lei non sa chi sono io, io sono un giudice, sto esercitando una qualità che ho, che ho veramente, ma che non c'entra niente, perché non è che l'essere giudice mi dà titolo ad avere il posto in prima fila. Ma se io devo parcheggiare l'autovettura nel parcheggio riservato ai magistrati, e trovo davanti il metronotte che mi dice, ma lei non può entrare, e io gli rispondo, ma lei non lo farei perché ormai ha un significato univo con questa frase, ma lei non sa chi sono io, io ho un titolo per entrare, allora la cosa cambia.